Musica Ciao ragazzi, che merca bentornati in questo nuovo video di Minecraft Oggi finalmente nelle Egg Wars in singolo Mi raccomando ragazzi, vi lascia un bel piacere e commento Iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto Noi ci vediamo direttamente in partita ragazzi Mi raccomando, bella Gente, siamo finalmente sulla mappa farm Allora, vediamo un attimino cosa possiamo fare Qua c'è già il generatore a livello 2, che è una cosa molto molto bene Perché aspettiamo sempre i nostri 14 pezzi di ferro Perché sto per avere l'ebola attenzione qua per non c'è questo oro Perché noi ci facciamo un nostro bellissimo picco, innanzitutto che ci costa 10 Poi ci facciamo un nostro bellissimo armatura Dove è l'armatura? Qua Laggo un pochino oggi, non so per quale motivo Ma io laggo sempre ragazzi Ormai, dove ho lanciato le mie cose a ciderbo minchia Allora, qua, allora, madonna quanto sto laggando Allora prendiamo questo No, ne ho fatti 10.000 Ma che palle Non so mai organizzare le mie cose raga Quindi questo qua magari lo droppiamo qua dietro in modo molto silenzioso Molto disonesto Hashtag disonesto nei commenti Poi ci facciamo anche una bellissima Un pochino di blocchi Raga, magari con questi Facciamo un po' di blocchi Qua ci facciamo del cibo con questi 16 Ci mettiamo tutto qua raga Poi qua l'oro che appunto sta 11 pezzi Aspettiamo i 16 magari per farci la spalla direttamente in ferro Intanto qua c'è un bomber giallo Che non si è ancora fatto nulla raga Molto molto bene Questo generatore qua si upcredita a 10 Non è malaccio eh Non è malaccio però non ci voglio fare adesso Magari prima attacco il giallo Poi mi prendo il suo oro E poi ci pensiamo magari Allora quindi qua ci facciamo ancora un pochino di cibo Tipo questi tre qua ce li teniamo Poi tutti gli altri li usiamo per fare i blocchi Qua c'è questi 16 mi faccio una spada in ferro Quindi tac Spada in ferro fatta Poi droppiamo giù magari questo ferro qui Io direi andiamo già dal giallo raga Allora Tanto l'uovo non lo bardo nemmeno Perché ha sti grandissimi cazzi Perché tanto Ormai sapete che aprite si vincono senza bardare l'uovo Perché tanto O ci sono gli hacker che prendono la flight Ammazzano in un mezzo secondo Oppure no Raga ci siamo Siamo quasi dal giallo Attenzioni incredibili Ma dove è il giallo in tutto ciò È là che sta bardando ma non mi ha visto Ciao bomber Ciao C'è Sei un pompirla Sei un pompirla Sei un pompirla Bomber Allora ma come giochi Ma come ti vesti Ma come ti buildi Come direbbe un buon masa Poi vediamo qua che c'è C'è il rosso Che potrei sinceramente andare anche da lui Eh rega Perché tanto magari non se lo aspetta Però in diagonale Non so se mi bastano questi blocchi Eh Non lo so proprio Allora però vediamo un attimino se Là il pink non si è collegato Bene Molto bene Tac Saliamo ancora un pochino 35 blocchi Eh Ci arrivo molto al pelo rega È molto al pelo Non lo so Vediamo C'è un uovo direttamente lì davanti in faccia Bomba così Bomba così Ma io mi dico sempre quello che sono Allora Ragazzi è lì il rosso È lì Nemmeno vi Ciao bomber Allora calma Mi stai picchiando con un piccone Allora Boom Fuori anche il rosso Fuori anche il rosso rega Molto bene Che top Ho fatto così fuori due persone Che bello Però l'oro me lo dai Dai che sto laggando Capito però Dammi il mio oro Lì il verde Ma io faccio quasi quasi tutto un cerchio Però mi servono blocchi a sto punto Perché davvero questa volta qua Io sto per finire Già che ci sono Mi faccio anche Il piccone quello in diamante Però dov'è il villager Raga ho perso il villager Dov'è Ma ragazzi non c'è un villager Dove cazzo è Allora eccolo qua Finalmente Madonna mia Allora Mi faccio il piccone quello in diamante Che si fa qua così Perfetto E poi questi qua Mi faccio Farmi delle mene d'oro Quindi Tac Poi mi faccio anche Tanti blocchi Tanti 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 blocchi Quindi una roba del genere Magari di più Perché tanto qua Noi ce li mettiamo così Perfetto Allora Vediamo un attimino Il verde C'ha un collegamento diretto al centro Io Buildo direttamente un ponte Nella sua testa Perché vuoi andare da lui Vediamo Noi siamo il ciano O il blu o il ciano Non mi ricordo Fa niente Non ci interessa Allora andiamo Regà io sono dal verde Ma dove cavolo è lui Perché Ma io non capisco Sta gente qua Che prende Va E abbandona la sua isola Come faccio io Cioè Non è che dici Cioè porco due Porco due Ma io ti ho rotto l'uovo Frate ma dove stai Dimmi che stai al centro Perché guarda Io vengo e ti ammazzo Io vengo e ti ammazzo Tu hai abbandonato la tua isola Sei un mascalzone Oddio c'è un full ferro No c'è un full ferro Quindi se lui Se il full ferro è qua Io me ne vado così Poi lo bardo qua No 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 Boom Boom Barda il full ferro No regà Mi sa che il pink Se è il pink Vado nel nostro isola Gli rompo l'uovo subito Ok Sì è il pink Regà mi sa che è il pink Regà mi sa che è il pink Ah l'ho combinata Calma 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 Allora Me la doro No è il grey Ok No regà calma che è il grey Calma che è il grey No 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 Sono un coglione Sono un pirla Sono un pirla Davvero Regà l'ho buttata via Sta mossa Eh Ho fatto un erroraccio Ho fatto un erroraccio Che non dovevo fare Devo andare nell'isola Degli altri Ora Riprendimi Tutto il loro oro Praticamente Perché Ho fatto un errore Di merda Eh Devo un attimo Refullarmi tutto E devo stare Tanto attento Quindi qua ne abbiamo Undici Eh Cazzo regà Cazzo Cazzo L'ho giocata malissimo Questo scontro qua Sono stato davvero un pirla Vediamo qua quanto oro Ce ne sono altri 5 16 Ci riusciamo a fare Una spada Qua ci facciamo un attimino Ah Sono un po' dispiaciuto Ecco E fa niente Allora qua Eh Ci facciamo sti materiali al volo Allora così Poi Eh Il resto Ce lo spegniamo in cibo Poi ci facciamo anche una spada Di là dovrei avere altro oro Però Eh Cavolo Potrei farmi una chestplate Sì mi faccio una chestplate In chain Regà io tento l'assalto al centro Al volo Un attimino Per prendere qualche diamante Devo capire un po' Dove sono tutti quanti Perché io mi sa che adesso Ora come ora Sono quello messo peggio Ok Abbiamo 20 diamanti Per tornare almeno Full ferro Dopo al centro Regà Poi ce ne prendiamo altri Per farci arco E cazzate del genere Però ora come ora Sono la cosa più utile del mondo E dobbiamo stare attenti A non perdere ancora O rischiare di morire Perché Se no Poi rifacciamo un'altra figura di merda E la cosa non va bene Perché riescono di buttare via Una parità che comunque Sta venendo molto A molto A molto bene Quindi qua ci facciamo Questa roba qua In ferro Ok Ci droppiamo giù Questa armatura Tanto nemmeno l'abbiamo usata Tac Perfetto Allora Quanto oro 5 Con queste 5 qua Vi faccio delle Mene d'oro Andrebbero servirci Qua vi faccio altri blocchi Che ci serviranno sempre Comunque altri blocchi Quindi ci mettiamo un attimo Una roba del genere E capiamo un attimo Cosa abbiamo intenzione di fare Io andrei ancora al centro A prendere qualche altro materiale Tipo qualche altro pezzo In diamante Per Uffi ho risposto di cadere un foto Allora Per farmi almeno il piccone E la spada Poi dopo pensiamo anche a farci L'arco Però Ora come ora Nel nostro Diciamo pensiero Allora come ora È proprio bello Far avanti e indietro Per prendere in diamante È bellissimo Proprio una cosa Poco noiosa Te lo giuro ragazzi E boom Raga Perfetto Però mettiamocelo un attimo Meglio Così Perfetto Allora poi Che sbatti Come ci sia l'oro Allora questo qui è l'orange Che ha un collegamento diretto Verso il centro Io andrei da lui quasi quasi Tanto lì c'è ancora l'uovo Flex 90 Che è l'orange Ok Raga è il momento buono Ad andare adesso Dal buon flex No non ho adesso Perché mi suona il telefono ora Ok Ho rotto l'uovo Però mi suona adesso il telefono Che ansia la vita Ok Ho ucciso Madonna mia che palle Scusatemi ragazzi Ma ho dovuto per forza Tenere quella parte in cui Ma quello lì è il blu Che non ha fatto collegamenti Verso il centro Cosa sto combinando Io ho da lui rega Poi allora C'è il blu Il pink E il ciano Che sono io Ok Però devo andare dal bomber lì Vediamo un attimino Stiamo un attimo nella zona Qual è il pink Va bene Allora Iniziamo ad andare dal blu C'è uno che contiene Insultarci in chat Rega Non capisco Sarà morto malissimo prima E stava rosicando un foto Caro blu Cosa stai combinando Io voglio capire un attimino Cosa sta combinando Sto blu qua Ma dove Dove c'è l'uovo Sto bomber Allora Basta Non per cazzo Basta Sto bomber Allora qua Dove 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 è sto uovo Madonna mia Un parto Ok Ciao bomber Ciao bomber Buona madonna T'ho shottato Così Me lo vogliono dire Ah Ok Qua c'è il generatore Livello 1 Ma cosa ha combinato Sto qua tutto il tempo Nella sua isola Vabbè Vorrei un attimino capirlo Manca solo il pink Che ha pure l'uovo Bomber Ciao bomber Ciao bomber Ciao bomber Ciao bomber Non ti posso prendere Nello spawn Boom E finisce così ragazzi Una partita bellissima Bella ma bella ma bella Quindi ragazzi Grazie per questo video Tu mi raccomando Spero che vi sia piaciuta Noi ci vediamo in un prossimo video Da Marche è tutto Mi raccomando Vi invito a lasciare un bel piace Al commento E a iscrivervi al canale Se ancora non avete fatto E niente Ci vediamo in presto video Bella